Scale e pianerottoli invasi dai ratti, gli ambienti comuni ricoperti da colla e topicida per difendersi dalle incursioni dei topi che si fanno sempre più frequenti. Gli abitanti delle palazzine popolari di Scavone sono stanchi di convivere con un degrado che si fa sempre più profondo. Da mesi ormai, a causa di alcuni tombini otturati dalle piogge che hanno sversato dentro fango misto erbacce rifiuti, i ratti fuoriescono dalle fogne e invadono i caseggiati. I residenti hanno segnalato il rischio sanitario da tempo ma nessuno ad oggi interviene. Nessuno si interessa di questa facenda, non dico che diamo la colpa solo al sindaco, però noi non chiediamo il mondo che viene dalla luna, chiediamo solo una manutenzione sia ordinaria che straordinaria, di illuminazione, di pulizia e un po' di tutto, perché non siamo persone, non siamo che non siamo persone che siamo nella luna. Loro sono venuti più volte dicendo, guardando, ma qua interesse non ce n'è che non viene mai nessuno. I residenti segnalano la mancanza di interventi di pulizia delle aree verdi e la carenza di illuminazione. Con il maltempo degli scorsi giorni è anche crollato a terra l'ennesimo palo della luce, l'unico funzionante che adesso si è trasformato nell'ennesimo pericolo per i bambini che attraversano quei vialetti per andare a scuola. Le uniche aree che risultano pulite sono quelle sulle quali sono intervenuti gli stessi residenti che a loro spese si sono armati di rastrelli e pale per liberare dalle erbacce e da rifiuti alcune aiuole, ma anche in questo caso i cumuli raccolti non sono mai stati prelevati e si sono trasformati in ricettacolo per insetti e parassiti. Le spese nostre è tutto nostro perché addirittura qua tutte le macerie riescono sempre qua perché non le viene a togliere nessuno, perché dice che non hanno le riscaldiche. Poi non lo so se è un problema loro o è un problema che si vogliono creare che non vogliono venire qua nessuno. Più non vogliono venire neanche quelli dell'illuminazione che abbiamo segnalato più volte ai signori della Ghevas, il primo al signor Traenito che sa tutto il problema dell'illuminazione che i bambini vanno a scuola e non viene mai nessuno. Non sai perché. Io penso che siamo esseri umani come a loro. Di bondà ci vuole, in entrambe le parti. Noi ci possiamo mettere la monedizione che possiamo pulire, ma io ci sono a mettere l'intervento che non abbiamo in animenza. Gli abitanti delle palazzine intanto chiedono un intervento immediato sul problema igienico-sanitario legato ai ratti. Cosa di farlo subito perché ci sono persone che li hanno avuti dentro gli appartamenti e c'è stato un manicomio per farlo uscire perché è un dopo che morde un bambino. Non è una cosa buona perché sono topi di foglie, sono ammalati e ci hanno patito per altri, vengono malattie. Perciò uno non chiede che la bacchetta magica, uno chiede il minimo, di cercare di pulire. Non vogliamo sa che cosa. Se no, se loro ci portano i mezzi, lo puliamo noi. L'hanno a dare per i mezzi per poterlo fare.